Un capitolo stellare, un capitolo che cambia le cose, un capitolo bellissimo, signori e signori buona domenica a tutti e benvenuti al capitolo 1047 di One Piece che finalmente riesce a ribaltare sul serio la situazione che però ragazzi richiede un po' di attenzione in più, richiede un po' più di pazienza e soprattutto una buona rilettura dell'intero manga per chi ne avesse bisogno e nel caso la facciamo insieme perché questo capitolo potrebbe mettere insieme tutti i pezzi attraverso una teoria che soprattutto unisce in maniera drastica e definitiva Rufy e Teach voi direte ma tutta sta roba andò sta? Ne parliamo con calma partiamo prima dalla cover perché abbiamo una cover molto interessante dove scopriamo alcune cose tipo che Rufy si appende a testa in giù per la prima volta è Momonosica guardare Rufy dall'alto verso il basso perché in questa saga solitamente c'è Rufy che sta sopra Momonosica sotto che però sta spostando l'isola in questo caso anche Rufy sta spostando due belle isole ma questa è un'altra storia abbiamo Cioppere che finalmente sta mostrando dei segni di umanità nel senso che anche lui sta iniziando a guardare cose interessanti e poi però una piccola chicca notavo che Zoro lì al centro mentre Rufy è preso da Nami lui dice no no io preferisco la salsiccia e vabbè poi ognuno è libero di... e poi c'è Jinbei che se la dorme ma è un sushi inutile e poi abbiamo ecco qui la cosa interessante la citazione di Franchi che sta cavalcando il drago ed è ovviamente una citazione a lui allegro allegro sulla motocicletta che va a sbattere contro Big Mom nella saga di Wano e poi vabbè altre cose di cui parliamo dopo dopodiché il capitolo inizia con uno dei flashback più attesi in assoluto io lo stavo aspettando c'erano stati di piccoli accenni però qui abbiamo proprio la fase definitiva di Momonosuke che prende la decisione di fare il suo viaggio di 20 anni ed è bellissimo veramente uno di quei momenti epici di One Piece complimenti a Oda poi il passo indietro lo so ragazzi che le frasi di Kaido che mi hanno fatto invece venire in mente una teoria al tempo stesso possono essere viste semplicemente con un occhio più da marketing cioè Oda semplicemente ha fatto un passo indietro ha capito che quel potere dato al nuovo frutto di Luffy che è sempre lo stesso ma praticamente abbiamo scoperto che non era quello che credevamo è un po' stato esagerato e allora ha voluto fare un passo indietro e un passo indietro domanda la risposta la direte voi alla fine del video intanto si alza un coro di preghiere da Wano era stato già accennato da qualche teoria me ne ricordo una ad esempio della mia cara amica Giulia poi qualcun altro aveva detto ah l'avevo detto anche io prima va benissimo lo stesso non litigate comunque questa idea che adesso si sta elevando un coro di preghiere ma perché non prendere questo coro di preghiere e piazzare anche questo nella mia teoria a questo punto e poi soprattutto abbiamo il chiodo di Orochi che se ne va via e quindi c'è un altro ulteriore colpo di coda ad una scena che sembrava già finita 8000 volte fa quando Kaido aveva decapitato Orochi ma a quanto pare Orochi si ostina a non voler morire ma soprattutto appunto parleremo di Teach e di questa rivelazione che collega Nika allo Yami Yami e a tutto il resto ma prima sigla e allora partiamo andiamo sempre in ordine nel capitolo quindi poi partiamo da questo discorso qui che a pagare a qualcuno può non interessare perché tornando un po' alle origini del mio canale io vi dicevo sempre che ci sono due momenti il recitativo è l'aria nelle opere teatrali il recitativo è la trama e l'aria è il momento del canto che però è il momento anche più bello se pensiamo a Nessun Dorma i pagliacci e le grandi aree sono quelle che poi rimangono nella storia all'alba vincerò quelle sono le aree appunto ecco questa è una fase di aria è una fase di emozione la trama non è che va molto avanti però è veramente bella da affermarsi un attimo rinunciare a voler leggere One Piece solo per vedere cosa succede vedere come va a finire ma godersi anche un attimo un'emozione e qui ragazzi è da tempo che aspettavamo il momento della partenza che cosa accade? che Oda ci fa vedere perché il povero bimbo di otto anni che adesso ne ha molti di più però è comunque mentalmente un bimbo di otto anni questa cosa succede spesso a tante persone che conoscono ma questa è un'altra storia non riesce a produrre le nuvole di fiamma perché non riesce a produrre le nuvole di fiamma? non ci riesce perché è incapace probabilmente anche per quello ma o perché è un trauma? dopo tutto ci potrebbe anche stare nel suo caso di essere pirofobo e aver paura del fuoco che cosa accade? che Oda riparte col flash o becco e inizia a dire se io devo andare anche tu e Iori dovete venire con me madre ma guarda un po' scusate non è una cosa logica ha fatto benissimo Oda un bambino di otto anni che giustamente la mamma dice tu va io e tua sorella restiamo qui beh mamma vieni anche tu non voglio certamente lasciare qui mamma in un castello in fiamme però non può farlo allora a questo punto io vi dicevo sapevamo che questa carta dell'addio prima o poi Oda se la sarebbe giocata se l'è giocata adesso in un momento cruciale di fine saga bellissimo e poi ragazzi qui Kinemon dice delle frasi che a prima lettura sembravano sconnesse tra di loro sembrava un discorso confusionario perché leggiamo insieme pensa a come si sente sua madre sto usando ovviamente lei mi sembra ovvio quindi pensa a come si sente sua madre il signor Momonosuke e qui è il caso dell'empatia cioè dice bimbo prova empatia per tua madre cerca di capire anche lei non è certamente felice di abbandonare suo figlio e di restare qui a morire quindi mettiti nei suoi panni poi questa è la terra dei samurai in seguito di una grande sconfitta i samurai sono soliti rinunciare alle loro vite quindi qui parla di tradizione vedete che non c'è zecca neri come si sente tua madre poi ti parla della tradizione dei samurai perché Kinemon sta mettendo insieme tutte queste cose ci sta è un momento scioccante è un momento di caos totale poi ancora nessun uomo dovrebbe contraddire una donna che parla con una tale convinzione qui c'è l'etica in mezzo c'è tutto c'è Kinemon spara delle frasi a caso che però poi si collegano così non c'è il disonore più grande qui si parla di onore e poi soprattutto il senso della responsabilità che è quello che poi rimane alla fine del flashback nell'attualità a Momonosica mio signore parlo con tutto il rispetto ora che il lord Oden non è più tra noi voi non siete più soltanto il suo erede se posso essere sincero non c'è disonore più grande quindi qui mette in gioco già la responsabilità che un bambino di 8 anni è costretto a provare e questa cosa l'avevamo sentito un po' tutti che Momonosica è comunque da giustificare è per sempre un bambino che deve portare avanti il peso di un'intera nazione adesso che si è trovato in questa situazione certamente le parole di Kinemon sono pazzesche sono bellissime e a questo punto poi c'è questa richiesta ed è la richiesta che fa cambiare le carte in tavola perché io signore la prego vi chiedo di donarci un'altra occasione di combattere e qui è l'unico momento in cui lui si mette in mezzo dice proprio vi prego fallo anche per me no? bellissima sta cosa potete darci questa seconda possibilità fare qualsiasi cosa per sguanare la mia spada per voi mio signore quindi è una supplica che questa volta viene direttamente da lui dice io non sono riuscito a difendere tuo padre ti prego mi dai la possibilità di farlo ragazzi ma cioè veramente uno va avanti veloce quando legge ste robe perché vuole vedere cosa succede nel capitolo perché se è così state messi male e a questo punto Momonose si alza si distacca dalla madre viene ripreso di schiena tremante bellissima questa inquadratura nel frattempo c'è comunque il suo occhio già nel presente e lui dice non riuscirei più a guardare in faccia mia madre tra le tante giustificazioni che aveva per alzarsi e combattere quale ha scelto tra tutte queste robe qui l'empatia la tradizione l'etica per chi ha deciso di continuare a combattere per la mamma è pur sempre un bambino di 8 anni cacchiarola bellissima sta cosa alzati e combatti poi è bello che dopo si gira in realtà si vede che tutto era forché un guerriero diciamo orgoglioso per un bambino che stava piagnucolando con tanto di moccolo ma ci sta è bellissimo e poi anche molto one fistiano bellissima questa prima parte complimentone a Oda per l'emozione e speriamo che nell'anime con tanto di musica di sottofondo possa darci ancora più emozioni arriviamo invece al combattimento qui metteremo un grande asterisco perché poi alla fine andiamo a riprendere la teoria di Teach allora tutto inizia con addirittura il fulmine qui ho preso una fotografia da internet bellissima deviantart del signor greci agzz complimenti a lui è stupenda questa immagine Rufi può impugnare anche i fulmini lo sappiamo già alla fine del 1046 non ci interessa andiamo avanti che poi ci sta perché lui è di gomma quindi attraverso la gomma può anche manipolare ma boh non possiamo stare con i poteri del manga ma non ci interessa perché anzi all'alba del 1046 stavamo ancora lì a dire ma allora sto fulmine è troppo forte e che cacchio ma non è possibile anche io avevo fatto la mia bella pappardella dicendo eh no eh no ragazzi io ho bisogno di seguire un manga il cui protagonista è forte perché crede in se stesso io ho bisogno di leggere un manga del genere e non un manga che mi insegna che nella vita se vuoi vincere devi mangiare il frutto oppure devi essere figlio di pingo pallino cioè ma che ragionamento è scusate è come dire nella vita vuoi essere vuoi avere successo beh prendi come fai come l'apo Elkan nasci erede degli agnelli e diventi ricco che cazzo di morale scusate ecco io ho bisogno di leggere un manga diverso e allora nel 1047 Kaido l'esperto Kaido l'uomo più forte del mondo ci dice ha impugnato un fumine è assurdo e Rufi gli dà anche il nome comunque uno thunderbolt questi lap su sufortiani molto strani e poi qui arriva però la frase bellissima però puoi continuare a giocare se vuoi ma non basta avere il potere di un frutto del diavolo per dominare su tutti i mari eccolo qui Oda eccolo qui che lentamente inizia a fare il passo indietro giusto? certo una prima lettura sembra proprio il classico passo indietro per tre capitoli faccio capire che questo c'è il frutto di Joy Boy è troppo forte è un frutto divino è un dio di Nika ufficialmente è un dio poi grazie a questo frutto sta facendo cose disumane persino Kaido che gli chiede ma tu cosa sei ma tu chi sei all'improvviso no no quando mai non serve questo una frase shock andiamo avanti addirittura dice prendi per esempio Roger lui non aveva i poteri di un frutto ma aveva il mondo ai suoi piedi oltre a dire questo io ci aggiungerei affatto l'impossibile ci ha conquistato la rotta maggiore che per chi conosce One Piece sa che è una cosa assolutamente assurda conquistare la rotta maggiore e poi alla fine dice anche in realtà qual è la soluzione non basta il frutto si può essere può darti un aiuto ma non basta la soluzione è questa certi ostacoli possono essere scavalcati solo con la propria ambizione innanzitutto mi piace molto di più come morale questa roba qui è bellissimo dire si ci può essere nel mondo qualcuno che è un aiuto in più io non metto in dubbio che una persona che nasca in una famiglia ricca in una famiglia potente possa avere quell'aiuto in più ma non è detto perché delle volte poi quante persone finiscono in depressione in suicidi anche se nascono in famiglie molto ricche nella droga per dire quindi non è sempre detto quello che conta nella vita è l'ambizione è l'abnegazione lo spirito di sacrificio quindi come morale ci sta ma fermi tutto qui è solo Oda che dopo tre capitoli ha detto ma secondo me o sei aggerato fammi andare un po' indietro mettiamoci un asterisco perché io poi adesso vi sparo la super teoria prima prima andiamo avanti sempre nel capitolo e diciamo che c'è il festival del fuoco allora il festival sta per finire non lo dico io lo dice il capitolo stesso c'è questa frase bellissima quando il sole sorgerà il sole sorgerà saremo di nuovo schiavi oh vi prego salite nostre preghiere spero davvero di poter sopravvivere almeno un altro anno bellissima questa cosa bellissima anche la successiva perché viene inquadrata la piccola Toki che dice su su salite vi prego raggiungete il mio papà e quindi abbiamo questo bellissimo riferimento al papà della bimba che appunto morì crocifisso vi ricordate ucciso da Orochi ma l'unico aspetto a proposito del sole è questo ma qual è l'alba qual è il sole che deve sorgere su Vano perché ci sono due soli che possono sorgere su Vano il sole astronomico cioè domani mattina l'orologio come direbbe Mazzarri scorre e a un certo punto il sole sorge però se si parla del sole sole che domani mattina prima o poi si fanno le ore 6 le ore 7 ed è l'alba il sole sorgerà ma quando sorgerà quel sole saremo di nuovo schiavi c'è un altro sole che sta per sorgere su Vano proclamato da Toki e adesso proclamato da sua figlia Iori è il sole che rappresenta la bandiera del Giappone il sole della pace il sole della libertà il sole della luce il sole di un dio altro asterisco tanto ormai in questa teoria dobbiamo praticamente farci un polpettone e mettere tutto one piece mettiamoci anche questo aspetto qui e infine abbiamo anche la ripresa per la 40 miliardesima volta di Orochi Orochi si riesce a liberare quindi da questo chiodo però è tutto pieno dalle fiamme e dice questa frase la tua adorata figlia sta per venire all'inferno con me il che ci fa capire che comunque lui è prossimo alla morte però almeno almeno prima di morire vuole portarsi appresso pure Iori ovviamente io non credo che Iori morirà qualcuno dovrà salvarla come si potrà salvare si potrebbe salvare da sola perché Iori magari è imparata a combattere oppure perché ha un frutto anche lei che le consente di sopravvivere potrebbe sopravvivere perché sta comunque correndo in tutto il palazzo l'acqua di Raizo ed è molto bello che quando era piccola fu salvata dal castello in fiamme di Kawamatsu adesso verrà salvata dal castello in fiamme dall'acqua di Raizo e di Zou quindi si ricollegano di nuovo le due saghe potrebbe essere salvata da Kanjuro qui però siamo sempre in quella versione più occidentale che orientale cioè di Kanjuro che fa redenzione chiede misericordia si pente di aver aiutato Orochi e quindi con l'ultimo barlume di forza decide di salvare istintivamente Iori non a caso Kanjuro compare anche in questo flashback in questo capitolo magari potrebbe essere questo oppure Kanjuro che involontariamente volendo abbracciare per amore il signor Orochi lo fa cadere che ne so lo fa cadere giù dalla finestra dico per dire oppure potrebbe essere Momonos che involontariamente mentre sta spostando il castello fa barcollare Orochi e quindi capito potrebbe essere salvata ci sono tanti modi e credo che Oda se la potrebbe giocare anche sul discorso del destino ma credo soprattutto che qualunque sia la scelta sarà una scelta anche che abbia quel senso di morale dietro cioè il gioco del destino anche se Orochi dovesse scivolare su una macchia di sangue e cadere a terra e non riuscire a uccidere Iori anche in quel caso sarebbe comunque un senso diceva visto è scivolato proprio sul sangue lui che di sangue ne ha versato tanto faccio un esempio ma sto dicendo una cavolata però credo che qualunque sia l'ancora di salvezza di Iori sarà sicuramente molto simbolica ecco questo voglio dire sarà sicuramente qualcosa allegorica ne sono certo pronti con la teoria allora questa è un po' lunga qui dobbiamo veramente mettere in mezzo e insieme tanti pezzi certamente il festival del fuoco ma anche i gorosei anche i primi capitoli e anche soprattutto il coprotagonista di questa meravigliosa opera che è marshal di teach allora partiamo da qui vi propongo una domanda che poi riprenderemo alla fine in antropologia Rufi è un dio no? cioè Nika è un dio in antropologia sapete perché credono molto spesso che gli uomini pregano e fanno sacrifici? cioè perché l'istinto è pregare allora ovviamente come direbbe anche il buon Feuerbach non è un amaro quindi andiamo veloci su queste cose però l'idea è che l'uomo prega per avere in cambio qualcosa è una specie di contrattazione io ti faccio una preghiera e tu in cambio mi aiuti nel raccolto diciamo in maniera molto semplice però ci sono anche altre teorie antropologiche secondo cui alcune divinità secondo gli antichi morivano se non venivano pregate cioè una divinità si nutre di preghiere e si nutre dei sacrifici molti dei sacrifici che facevano i greci ad esempio dove mettevano nel calderone e poi davano fuoco a tutto ciò del capretto che gli uomini non mangiavano funzionava così si sgozzava il capro come succedeva nel Tragos Odia nella tragedia quindi la morte del canto del capro Tragos e il capro cosa succedeva che l'uomo mangia il sangue no e allora gli dei mangiano il sangue l'uomo mangia le ossa no gli dei mangiano le ossa l'uomo mangia la carne si agli dei non piace la carne eccetera prendevano tutti gli scarti li mettevano nel calderone e davano fuoco e le divinità si nutrivano attraverso proprio i fumi che sprigionati da questo calderone quindi l'idea era che bisognava fare i sacrifici e pregare le divinità anche perché loro avevano bisogno proprio di nutrirsi le divinità si nutrono questa cosa la mettiamo qui e teniamola da parte andiamo con la teoria dunque partiamo dall'aspetto più importante i gorosei è anche l'aspetto più discusso almeno per me ve l'avevo detto anche nell'ultimo videocommento pochi giorni fa che ho fatto sto recupero di videocommenti che era una cosa che mi era piaciuta di meno secondo me era meglio che i gorosei dicessero noi non sapevamo niente era più logico così spiegavano anche perché per 800 anni non hanno fatto molto per cercare di recuperare questo frutto si hanno lanciato husbu della cp9 perché loro comunque un frutto del diavolo certamente non possono lasciarlo in giro per il mare perché è pericoloso quindi se trovano un frutto comunque lo vogliono prendere tutto qui era più coerente era più concreto invece hanno voluto dire che loro sapevano di questo frutto ma non è stata mai una priorità assoluta che significa priorità assoluta che a mariford c'è ace il figlio di dragon c'è barba bianca l'imperatore più potente del mondo ma c'è anche monchi di rufi l'uomo che ha il gomu gomu io fossi stato un grande ammiraglio fossi stato il governo avrei dato un ordine vaiu lasciate stare ace lasciate stare barba bianca ammazzate quel ragazzo subito quello non deve sopravvivere cavolo ce l'abbiamo qui davanti senza la ciurma sta lui bello qui da solo lui è la nostra priorità in questo momento fosse stato un ordine del genere a mariford sarebbe stato più coerente invece è stata una scelta di akainu alla fine di non voler lasciar scappare rufi ma perché il figlio di dragon qui è una delle tante incoerenze del manga e invece proviamo a interpretarla così i corosei ok sapevano che il gomu gomu qualora qualcuno fosse riuscito a risvegliarlo era in realtà il frutto di una divinità leggendaria di nome nika divinità che loro conoscono benissimo diamine a mari gioa se tu preghi nika vieni fatto fuori e anche chi soltanto racconta il mito viene fatto fuori e fatto sparire quindi conoscono bene il pericolo di questo nika però che succede che non era una priorità assoluta perché uno doveva avere questo frutto doveva riuscire a risvegliarlo e anche qui ce ne vuole perché poi per risvegliare un frutto bisogna fare in modo che corpo e mente citokaido devono essere in sintonia e quindi è difficile risvegliare il gomu gomu perché devi trovare una persona che è in sintonia con questo frutto ma è un frutto talmente strano da cui entrare in sintonia che è difficilissimo che venga risvegliato c'era riuscito Joy Boy ragazzo della gioia manco fa l'apposta 800 anni fa ma figuro di chi cacchio vuoi che oggigiorno vada a risvegliare il gomu gomu anche se poi c'era questo discorso del timer ma vabbè lasciamo stare ma poi non solo quello che ci dice Cato nel 1047 è che non basta il frutto anche qualora qualcuno dovesse riuscire a trovare il gomu gomu mangiare il gomu gomu perché è un frutto capriccioso che poi non si fa mangiare tutto quanto risvegliare questo frutto e quindi trasformarlo in omo omo modello nico ma nonostante questo poi devi comunque riuscire a sfruttare appieno il potere di questo risveglio e chi cazzo è che ci riesce qui entra in gioco la mia teoria e teoricamente giustifica anche il perché i gorosei si conoscevano il frutto ma non si erano preoccupati più di tanto perché c'erano tanti step per renderlo pericoloso con la premessa che questo frutto probabilmente se utilizzato a piena potenza cioè mangiato risvegliato e utilizzato a pieno il risveglio è probabilmente il frutto più potente che esiste nell'intero manga ma per arrivare a questo livello qui ce ne vuole perché ce ne vuole ce ne vuole andiamo con perché ce ne vuole allora andiamo a Kaido quello che dice in questo capitolo non basta avere il potere di un frutto del diavolo io posso leggere questa frase in tre modi il primo e il secondo il marketing che è quello che mi piace anche a me a volte fare non molto però l'idea di dire e beh ma sai com'è Oda si è reso conto dagli exit poll dai primi sondaggi dai forum internazionali che gli ultimi tre capitoli hanno fatto cagare e quindi sta cambiando un po' il tiro è una prima chiave di lettura forse la prima che viene in mente vabbè io non posso discuterla qui non lo sapremo mai dovremmo stare dovremmo chiederlo a Oda e non possiamo la seconda chiave di lettura è quella della morale cioè Oda si è reso conto o comunque vuole fare in modo che questo esempio mi piace moltissimo che effettivamente l'idea che basta mangiare quel frutto e poi chiunque anche il primo pirla che passa diventa re dei pirati non è una bella morale quello che vi dicevo all'inizio e quindi anche in questo caso è sempre necessario fare in modo che il protagonista può anche avere l'aiutino ma poi è lui che ce la deve fare è lui che deve superare le sfide quindi la frase di Kaido è bellissima non basta il potere del frutto se tu diventerai re dei pirati ci riuscirai perché sei monkey di rufi e ti sei fatto un culo così non perché hai mangiato un frutto a cinque anni giustissimo mi piace anche la morale ma c'è una terza chiave di lettura è proprio un potere del manga cioè il frutto homo homo nika chiamiamolo così è un frutto che funziona all'interno di questo manga soltanto se viene utilizzato a pieno regime ma come dicono i corosei appunto è difficile mangiarlo è difficile risvegliarlo ma è praticamente impossibile utilizzarlo a pieno regime neanche joy boy c'era riuscito neanche joy boy c'era riuscito perché e qui dobbiamo arrivare adesso al punto chiave della teoria il teorema di mi hoc cosa dice mi hoc la famosa frase non è un potere speciale o un frutto del diavolo quello che rende speciale questo ragazzo è il fatto di riuscire a rendere tutti i propri alleati questo è il potere più spaventoso di tutti i mari potrebbe essere una frase d'impatto potrebbe essere la morale del manga di qualunque manga perché pure Goku usa l'energia sferica che è il potere di tutti i terrestri ma qui secondo me andiamo oltre se mi hoc avesse avuto anche lontanamente un accenno da parte di Shanks di dire guarda che quel ragazzo ha mangiato un frutto particolare quel famoso frutto che se tu riesci a portare tutti dalla tua parte si attiva a pieno regime ed il frutto che si è attivato a pieno regime diventa immenso quindi perché i Gorosei non si erano spaventati più di tanto perché vabbè è difficile mangiarlo è difficile risvegliarlo ma è difficile portarlo a pieno regime perché per portare a pieno regime il frutto di Rufi che appunto da solo non basta come direbbe Kaido bisogna fare in modo che l'ambiente circostante e qui entriamo già nelle frasi del del Gear Fifth che l'ambiente circostante sia un ambiente in cui tutti quanti fanno il tifo per te perché perché è un Dio e i Dei si nutrono di preghiere quindi se una persona antipatica e scontrosa come Kid oppure una persona fredda e riservata come Lo mangiasse questo frutto probabilmente non riuscirebbe a risvegliarlo perché colpe e mente non andrebbero in sintonia e vabbè ma anche qualora lo risvegliassero non hanno caratteri compatibili col teorema di Mioc non hanno caratteri fatti in modo che poi tutte le persone fanno il tutto il tifo per Lo tutti fanno il tifo per Kid ma quando mai ma chi se lo caga Kid tutti fanno il tifo per Rufy e il potere di Rufy il frutto di Rufy che ricordiamolo da solo non basta quando è in Gear Fifth riesce a ottenere il quintuplo il sestuplo di potenza in più quando poi tutti fanno il tifo per lui è un frutto che riesce a nutrirsi dell'ambiente circostante ma non è finita qui la teoria dobbiamo andare ancora oltre parliamo del fatto che alla morte di barba bianca lui dice la famosa frase one piece ma nel dire questo one piece è scritto piccolino piccolino sulla destra ci sono tutte queste lettere in hiragana e in kanji e vicino vicino trovate scritto in katakana piccolino piccolino così one piece cioè lui scrive piccolo one piece e poi in grande è scritto hito uomo uomo le prime due tsunagi connessione no del daihi ho grande tesoro e poi l'ultimo kanji è un wa che significa soggetto il tesoro della grande interconnessione umana oppure il grande tesoro dell'interconnessione umana ecco più giusto così barba bianca dice arriverà qualcuno che se leggete questa frase alla luce della mia teoria che sto dicendo adesso arriverà qualcuno che si farà carico di tutto il peso della storia e troverà quel tesoro il tesoro dell'interconnessione umana e il mondo si spaventerà se in goku buddha farà la faccia come dire cazzarola no arriverà qualcuno che interconnetterà tutti gli uomini cioè l'ambiente cerco di tradurlo alla luce del 1046 47 l'ambiente circostante farà tutto il tifo per lui interconnetterà tutti e si farà carico del fardello di tutti o meglio dei sogni di tutti adesso ci arriviamo al discorso dei sogni così arriviamo a teach si farà carico dei sogni di tutti quindi riuscirà a portare a pieno praticamente quel frutto lì quel famoso frutto che a quanto pare tanti anni fa ha fallito perché joy boy forse non è riuscito a coinvolgere tutti beh cazzo 20 nazioni gli stanno contro direi proprio di sì quindi attenzione anche a questa rilettura i sogni punto ultimo della teoria e finalmente arriviamo a teach ma com'è possibile che teach e rufi sono praticamente gli antipodi uno è l'opposto dell'altro vengono presentati al loro primo incontro in una taverna dove mangiano una fetta di torta rufi dice buonissima in contemporaneo teach dice fa schifo mangiano un'altra cosa teach dice ottima rufi dice fa schifo ma com'è possibile cioè sti due vanno in disaccordo su tutto sono esattamente l'opposto di tutto uno dice scuro uno dice chiaro uno dice scuro e l'altro risponde di nuovo chiaro eccetera com'è possibile che però vanno d'accordo su un unico punto i sogni degli uomini non finiranno mai ma com'è possibile scusate questi vanno in disaccordo su tutto vanno d'accordo proprio sui sogni ma non è strano sto fatto e poi rufi che come reazione non è che sorride oppure dice beh almeno siamo d'accordo su questo no lo guarda strano quasi spaventato si gira e se ne va quasi come se avesse capito che c'era una minaccia dietro quella frase è la frase che ha portato teach nei nostri cuori però fatto sta che è una minaccia sta frase detta da teach i sogni degli uomini non finiranno mai perché una minaccia perché da un lato abbiamo quindi un frutto che funziona e questo è molto manga molto shonen funziona che da solo non basta ma funziona come l'energia sferica di Goku quando poi riesce a trarre la forza da parte di tutti quindi se rufi durante il combattimento a tutti quanti intorno che fanno il tifo per lui la sua forza aumenta attraverso questa interconnessione di poteri lui diventa super potente e quindi lui è l'uomo dei sogni perché se tutti quanti hanno lo stesso sogno i sogni è una delle cose che interconnette tutti tutti possono avere lo stesso sogno una rivoluzione nasce quando tanti uomini hanno lo stesso sogno giusto? i sogni interconnettono e rufi è l'uomo dei sogni fa in modo che il suo sogno diventi il sogno di tutti e il sogno di tutti diventi il suo sogno perché molto spesso rufi arriva in una saga in un'isola non sa neanche lui che le persone di Dressa Rosa sognano una rivoluzione quel sogno diventa anche il suo e viceversa lui che porta la libertà il suo sogno diventa quello degli altri interconnette tutti batte Doflamingo questo è rufi questo è quello che abbiamo sempre visto in One Piece e rufi ottiene sempre potere Dressa Rosa è stata bellissima però quando tutti alla fine facevano il tifo per lui ecco e noi ci ritroviamo all'improvviso questo teach che invece dice i sogni non finiranno mai non è strana sta cosa allora io la leggo così In e Yang ormai l'hanno capito tutti io vado dicendo da tempo ma ormai è praticamente sulla bocca di tutti Kaido è lo In l'oscurità rufi è lo Yang la luce vi avevo anche detto che sole in giapponese Nika sole si scrive proprio in giapponese con i kanji di grande Yang cioè sole si dice grande Yang grande luce in giapponese quindi figuriamoci rufi è la luce rufi è il dio che realizza i sogni è il dio che porta il sorriso la D Nika sole luce libertà sorriso libertà perché a Marigio pregavano gli schiavi per avere la libertà giusto? e quindi chi è l'antitesi? chi è l'opposto? chi è lo In? beh per avere lo In dovremmo avere l'opposto del sole guarda un po' abbiamo la luna in Tic abbiamo la luna di lì abbiamo il sole e la luce di cui abbiamo l'oscurità ma guarda un po' lo Yami Yami il frutto dell'oscurità è la luna rappresentata di notte di là dovremmo avere il sorriso la gioia come Joy Boy di qua guarda un po' cosa abbiamo un pianto un bambino che piange di là dobbiamo avere i sogni di qua abbiamo un bambino che non dorme perché i ticci non dorme? beh ci possono essere motivi anche mitologici io cito spesso il Demone Tasso che viene riportato anche in Naruto non è un'invenzione di Kishimoto il Demone Tasso è un mito giapponese che proprio si nutre dei sogni ed è qui che volevo andare a finire sulla frase di prima perché sembra quasi minacciosa sta frase i sogni degli uomini non finiranno mai è come un ciccione che dice panini al McDonald non finiranno mai avrò sempre i sogni che posso utilizzare per nutrirmi rufi si nutre di preghiere e di sogni ticci si nutre di incubi e si nutre di sogni come il Demone Tasso che appunto gli impedisce di dormire ticci è l'uomo degli incubi è per questo che dice i sogni non finiranno mai perché lui potrà sempre sfamarsi dei sogni e trasformare questi sogni in incubi ticci potrebbe trarre la forza esattamente come rufi attraverso l'interconnessione come direbbe barba bianca ma è un'interconnessione non data da tante persone che sognano tutte insieme qualcosa ma tante persone che temono tutte insieme qualcosa e guardate che non è tanto lontano dal nostro mondo come che riescono a convincere un intero popolo a fare qualcosa ad esempio a diventare tutti razzisti attraverso la paura attraverso l'incubo vi fanno cagare sotto di qualcosa questa paura vi interconnette tutti e allora siete disposti anche a diventare razzisti ad aver paura degli altri a piombare nell'oscurità ticci dall'altra parte potremmo avere tutti un sogno di libertà un sogno di gioia un sogno di sole di luce allora ci interconnettiamo nello young di rufi ovviamente uno direbbe è la d perché ticci ha la d io ho una risposta anche per questo però un po' complicata nel senso che qui dovremmo andare poi a parlare del perché anche l'idea che solo rufi non può bastare da solo cioè faccio un breve accenno però qui ci vuole un amaro perché poi andiamo a finire a parlare di utopia e distopia andiamo a finire in altri mondi ho riflettuto anche su questo in breve dico soltanto che se il mondo fosse solo fatto da rufi e vincesse rufi al 100% avremmo un mondo pieno di persone senza più desideri cioè persone sono già tutte libere non hanno più nulla da desiderare a un certo punto sarebbe quasi necessario avere dei teach persone che ci fanno piombare nell'oscurità così poi da poter desiderare la luce perciò poi lo in ha bisogno dello yang e lo yang ha bisogno dello in per farla breve potrei dire una frase d'impatto non potremmo mai apprezzare la pace se non abbiamo vissuto la guerra ecco perché poi a un certo punto abbiamo bisogno anche di teach e perché teach ha la d nel nome dopo tutto anche lui a malincuore però porta la d trasformando i sogni in incubi e facendo in modo che poi questi questi incubi ritornino sonni porta la d anche in questo modo è il motivo per cui nell'hasgard a malincuore dovevano tenersi l'occhi perché non puoi avere il bene senza avere il dio del male però vabbè ne parliamo con cambio in un amaro fatto sta che l'interconnessione tra rufi e teach è una delle più belle interconnessioni mi dispiace per kishimoto ma qui oda mi supera alla grande e anche naruto e sasuka è pazzesca pazzesca è una roba non ho parole dinanzi a questo concludo soltanto dicendo appunto breve rilettura del manga rufi puntualmente arriva in una saga e perde ha perso contro crocodile 3-4 volte ha perso contro geckomore ha perso contro do flamingo perde sempre rufi però alla fine vince perché alla fine vince guarda un po' che coincidenza rufi alla fine vince soltanto quando dopo aver conosciuto i civili dopo aver unito i suoi sogni a quelli dei civili a tutti che pregano per lui ad alla pasta prima del colpo finale tutti facevano il tifo per lui a skypea dopo che l'hanno conosciuto idem a thriller bark dopo che l'hanno conosciuto e gli hanno prestato la loro ombra tutti facevano il tifo per lui adressoroso non ne parliamo proprio rufi ha vinto solo quando alla fine tutti hanno fatto il tifo per lui cazzo il teorema di mioc preso e trasformato da una semplice dove cacchio sta da una semplice frase d'impatto a una teoria one pizziara questa era l'idea il 1047 è illuminante con questa frase di taido perché ok possiamo leggerla come un'oda che sta tornando indietro ma possiamo leggerla come la rivelazione definitiva diciamo così che ci spiega dove il manga sta andando a parare un'interconnessione di sonni e poi in seguito dovremo combattere contro l'alter ego che comunque fa parte della D attenzione pronostici della settimana abbiamo a che fare con Lu che dice vediamo un pochettino che Momo secondo me mi sposta l'isola Rufi mi colpisce Kaido termina il terzo atto io non lo dimentico mai ma ci succederebbe anche l'inizio dell'arrivo dei figli di Big Mom perché visto che ormai ci siamo giocati la CP 0 che ormai aspettavamo che fosse lei a fare il fine saga invece la CP 0 è stata sterminata beh a questo punto ci rimane soltanto i figli di Big Mom a dare un po' di emozione a fine saga e poi la più bella della settimana beh dopo ovviamente tutte queste riflessioni sulla libertà sulla bellezza eccetera non potevamo non mettere le gambe di Nico Robin e Brooke che praticamente muore fa finta di dormire ai suoi piedi ma questa è un'altra storia e poi l'angolo della posta allora vediamo un pochettino qui cosa di bello ci possiamo leggere dal nostro forum ieri mi sono pure dimenticato di mettere di mettere in diciamo il post me lo sono ricordato alla fine vediamo voi come l'avete vista allora la cover sembra quasi il finale della saga dove tutti festeggiano con Momo comunque alla fine Kaido detta Rufi come vincere la battaglia con Lucky ecco il super pugno pieno di armature e reconquistatore che se è il pugno finale o ci sarà un'altra mossa più forte probabilmente appena Nekashima sarà spostata allora arriverà la fine di Kaido vero ma ricordiamoci che probabilmente all'interno di quel pugno ci sono le preghiere di tutti quelli del festival del fuoco che stanno arrivando a Rufi più preghiere ci sono più tifo c'è più Rufi vince che frutto ragazzi che frutto perfetto per uno show tra l'altro poi Zunisha quindi a che serve aiuterà Momo a spostare l'isola chi fermerà Orochi bene abbiamo parlato su Zunisha beh credo che in realtà la sua presenza in questo momento serve soltanto ad annunciare Joy Boy è più scenografica che altro infine sto Rod Pony Griff nessuno ci ha pensato a sto giro strano che nessuno da quando siamo arrivati a Wani abbia parlato beh in realtà c'era Lou e Nico Robin che erano dati alla sua ricerca è anche probabile che er Lou abbia fatto una copia e Oda adesso non ha avuto proprio il tempo materiale per parlare del Rod Pony Griff ma a fine saga ma comunque lì sta quindi poi quando finirà la saga credo che nulla vieterà a Rufi di prendersi una copia poi Yohoho che dice ciao Strack fa piacere rivederti risentirti grazie a Bambino dopo un po' di giustificata senza e beh è quello che sto passando è roba non da poco comunque passando a Bambino vorrei sporto un'idea che mi è piaciuta qualche settimana fa se ci pensiamo bene il Gomu Gom era l'unico Paramish che funzionava in maniera diversa dagli altri perché Rufi era sempre di gomma e necessitava di un'attivazione come per gli altri frutti Paramish non necessitava di un'attivazione quindi mi è venuto su Bidin Man di Dark Dark di Teach guarda casa è l'unico roggio che non dà l'intagibilità al suo possessore inoltre ha anche poteri aggiuntivi all'oscurità come ad esempio la capacità di cancellare temporaneamente i poteri dei frutti di un'altra persona se ci aggiungiamo l'incredibile resistenza fisica mostrata da Teach mi viene da dire che anche lui in realtà sia forse di un zozo ancestrale e mitologico beh in realtà su questo se ne discute da tempo si parla spesso del Cerbero però visto che Oda si è giocato la carta di una divinità che è un chiaro riferimento alla dea del suo Amaterasu oppure una divinità della gioia però credo che Oda ha preferito proprio per evitare anche i disguidi di inventarsi di sana piante una divinità potrebbe fare lo stesso anche con Teach cioè anziché andare a citare il demonetasso o il dio dell'oscurità o qualcun altro credo che si vada a inventare anche in questo caso uno zone mitologico di sana piante che poi gli consente di nutrirsi anche di altri frutti del diavolo potrebbe essere certamente questo si presenterebbe uno sconto da due divinità luce contro buio vabbè questo è però il discorso di Yin e Yang su Teach e ste robe qui io me le vado dicendo da oltre un anno quindi direi che non è neanche necessario continuare comunque certamente sono pienamente in linea con questo e poi infine il red dov'è buongiorno strike anche se non ho ancora cominciato a fare le lavi mi sono immaginato a rotta faccia mentre leggevo il 1047 la mossa di Kato che richiama il Buddha si parte con le spiegazioni no ma io mi sono concentrato più su un'altra storia a sto giro mi stavo chiedendo però perché tutta questa cura nel salvaguardare Onigashima ci sono i samurai gli alleati momonoso che invece di creare delle nuvole per trasportare tutta l'isola non potrebbe creare delle nuvole per trasportare chi ha all'interno dell'isola si vero però un altro dubbio che mi è venuto in mente leggendo il capitolo e chiedendomi perché savaguardare l'isola ma è per il Rotpony Griff che fine ha fatto allora e poi soprattutto finirà mai il terzo atto allora tutte domande molto belle però credo che le risposte siano soprattutto scenografiche cioè il compito di momonoso che è quello lì soprattutto di riuscire a fare la stessa cosa che sta facendo kaido cioè kaido sposta l'isola anche momonoso che sposta l'isola credo che il senso sia quello e poi soprattutto se rufi sconfiggesse kaido kaido non avrebbe più la forza di reggere l'isola con le sue nuvole e l'isola cadrebbe sulla capitale c'è questo piccolo problema cioè che non basta soltanto spostarla bisogna proprio fare in modo che la capitale non cada sul o meglio scusate che Onikashima non cada sulla capitale se no salvi gli uomini di Onikashima ma ammazzi i civili sulla capitale quindi l'isola va proprio spostata tutta il discorso di Rotpony Griff secondo me è un problema da poco nel senso che si è capito che a differenza di Hulk e Kalad in questa saga prima facciamo fuori nemici e poi con calma ci andiamo a leggere i Rotpony Griff un po' come è accaduto a Zou ce lo leggiamo con calma i Rotpony Griff però prima dobbiamo far fuori in questo momento durante una battaglia che deve fare Oda cioè aspetta un attimo vado un attimo a leggere Rotpony Griff e Tony 10 cioè è normale che in questo momento sono tutti concentrati oppure la gente nel castello che sta scappando dalle fiamme e dice fermi tutti prima leggiamo i Rotpony Griff cioè è bellissimo Usop in questo capitolo che dice io non devo morire ecco la cosa migliore che c'è comunque ecco a luce di questo io ho cercato un pochettino di mettere insieme i pezzi del puzzle dell'intero manga per dare proprio una chiave di lettura diversa cercare di rivalutare proprio la scelta di Oda del Gomu Gomu che se è così è veramente stupendo scusate da nostalgico continuerò ancora a chiamarlo Gomu Gomu per un po' comunque spero che il video vi sia piaciuto vi auguro una bellissima domenica sono le 9.30 adesso mi sono svegliato di buon umore stamattina per fare questo video perché mi è tanto piaciuto questo capitolo adesso ripiombo nell'oscurità delle mie giornate vi saluto e vi ringrazio di tutto questo mi raccomando fate i bravi e buona domenica a tutti ciao